fifa catar 2022 il mondiale del grande reset amici di comedon kishot ben ritrovati con il tecno ribelle gatekeeper depistatori e strilloni sono tutti fuori pista catar un paese in cui ci sono più ombre che luci il mondiale della morte il mondiale dello sfruttamento dei lavoratori il mondiale delle partite senza birra in un paese in cui vige la pena di morte e i diritti umani sono calpestati l'inedito mondiale tra novembre e dicembre in un golfo persico senza tradizioni pallonara e da lì senza sosta via discorrendo avvantaggiati dal vuoto azzurro di roberto mancini fuori d'italia dal torneo calcistico più prestigioso al mondo boigotta fifa catar 2022 il mantra dalle curve italiane ultra fino alla versione edulcorata di rosario fiorello tutti a dire no 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 a questi campionati compresi codacons e famiglia cristiana peccato però che lo dicano eludendo il vero bersaglio perché perché il motivo per cui bisogna criticare denunciare e boigottare questa follia mondiale mascherata da 11 contro 11 nel piccolo emirato sta tutta nel grande reset che questo torneo sfacciatamente rappresenta e lo spaccialo pure per pratica sportiva ascoltate noto come il football e gli stati siano da sempre laboratorio sociale e da decenni terreno di sperimentazioni tecnodigitali dopo la tessera del tifoso come green pass antelitteram dopo i tifosi virtuali come ologrammi su spalti vuoti per confinamento da covid dopo la sciarpa biometrico intelligente cioè col microchip sul collo per controllare le emozioni dei fans a manchester la ventiduesima edizione della coppa del mondo fifa catar 2022 è un vero e proprio spot pubblicitario della quarta rivoluzione industriale i 350 autobus fifa che per tutta la manifestazione trasporteranno i giocatori delle 32 nazionali dei rispettivi ritiri e campi da gioco sono infatti tutti dotati di banda larga mobile tra questi circa 300 anche in versione wireless con il wifi e oridu operatore ufficiale di telecomunicazioni per medio oriente e africa in tutti gli impianti sportivi del catar sta sperimentando la sua pionieristica rete 5g da 3,5 gigahertz con velocità download superiore a un gigabyte irraggiando tutti i tifosi sugli spalti prima durante e dopo i 90 minuti di gioco e ancora per entrare in ognuno degli otto stadi da 40 agli 80 mila posti seduti confortevoli e coperti ai cancelli di ingresso ogni spettatore deve prima passare il baglio del riconoscimento facciale digitale cioè la scansione di documenti di identità integrata con lo scanner dell'irite membrana oculare con tanto di assistente virtuale basato sull'intelligenza virtuale a condurre l'intera operazione mentre una volta dentro i tifosi sono sorvegliati a vista d'occhio da 15 mila telecamere con riconoscimento facciale e droni volteggianti in aria come una sorta di realtà aumentata sfoggiati in cielo nella sfida inaugurale vinta dall'equator per disegnare una maxi coppa dorata ma c'è di più perché negli stadi anche la grafica è stata resa smart e realizzata con algoritmi di intelligenza artificiale calcistica migliorata per scendere in campo coi calciatori e rendere lo spettacolo più liquido possibile nell'era virtuale dei social non solo sul rettangolo di gioco c'è poi l'esordio assoluto del var robotico cioè dell'assistente robotico per il direttore di gara dove 12 telecamere più un sensore in mall inviano i dati al robot che poi il var comunica all'arbitro girando simultaneamente il risponso agli organi stampa in modello 3d ovvero la dinamica tridimensionale dell'azione incriminata ridotto da 70 a soli 25 secondi d'attesa il tempo limite per un gol dubbio prima che possa essere più o meno convalidato no a capitale del catar ovviamente poi la smart city dell'emiro qui tutte le automobili sono controllate in modalità smart road con traffic technology ovvero una rappresentazione digitale della rete stradale per una gestione più efficiente del traffico stimato che entro il prossimo anno in meglio oriente le cosiddette automobili intelligenti rappresenteranno il 37 per cento del totale di quelle su strade tutte dotate di tecnologia di bordo tra sensore e telecamere in grado di monitorare gli errori del conducente e qualsiasi violazione del codice stradale più o meno come in cina insomma esattamente come a dubai dove pochi mesi fa si è tenuto il summit del nuovo ordine mondiale dopo gli emirati arabi adesso si è passati in catar dove i mondiali ne esaltano l'alfiere trasmesso in mondo visione il vessillo di quel traghettamento transumanista che attraverso nuove tecnologie punta a disumanizzare società civile e umanità intera proprio come fosse un gioco tra un fuorigioco e un assist tra un algoritmo e un robot pronostico uno x2 io dico attenti alla germania claus schwab il guru del forum economico mondiale a bali con i capi di stato e governo nel recente g20 è infatti socio l'orario del buyer monaco quindi al teorico del microchip nel cervello il giocattolo calcio interessa è come saranno quindi panzer ad alzare al cielo la prima edizione della coppa del tecno mondiale per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a stop 5g salute ambiente geopolitica privacy transumanesimo controllo sociale libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale terra nuova edizioni oppure sul sito di aggiornamento naturale www.osisara.com appuntamento alla prossima puntata del tecno ribelle e un caro saluto a tutti da maurizio martucci ciao ciao ciao